Sono il sindaco di Castelmagno, un sindaco mi ritengo imprestato a Castelmagno perché in realtà sono nitro nero, ma soprattutto sono un insegnante, l'insegnante di questo bellissimo istituto che è il Gran Discuneo, sezione IPSMAT che vuol dire l'istituto professionale per la manutenzione. Lo dico con orgoglio perché sono stato un allievo ai miei tempi di questa scuola ed oggi con veramente con piacere e con orgoglio sono un insegnante. Ho voluto coniugare quello che è l'insegnamento a questi ragazzi con la carica del bisindaco di un paese e direi che la cosa è venuta bene. Abbiamo finito qua, cosa ci manca da fare, Anna? Beh, dobbiamo sistemare le linee dei parcheggi davanti al comune, finire di verniciare le ringhiere e fare i piedini al ponte e per l'ottima cosa pulire un po' la rivera. Abbiamo fatto un lavoro eccezionale, è stato potrei dire un'esperienza formativa anche per i ragazzi di vivere insieme quattro giorni presso il comune di Castelmagno dedicati alla manutenzione del bene pubblico. Ci sono stati fatti la tinteggiatura delle ringhiere, la tinteggiatura di quello che sono le panchine, ringhiere del comune, il taglio, lo sfalcio dell'erba sui sentieri del cammino di San Magno. In questo momento ci stiamo occupando della manutenzione delle ringhiere nel comune di Castelmagno. Come prima cosa abbiamo carteggiato completamente le ringhiere e utilizzato un prodotto apposito per pulirle e per mettere alla vernice di aderire al meglio. In secondo luogo invece le abbiamo completamente ripinti a mano noi ragazzi del progetto. Come sindaco e anche come insegnante sono orgoglioso di aver proposto questa iniziativa. Il preside, il corpo docente ma soprattutto i ragazzi hanno chiesto a gran voce che questo venga ripetuto negli anni successivi. Sto dipingendo questi guardrail perché erano un po' arroginiti, non scostati e niente, e questo è il mio lavoro. Non si faccia male. Non ti fai male e non ti sporchi. Mettevo i soldi in ero automatico, non mi dava la benzina. Se ne avevo già per 150 euro quasi, allora l'ho preso e ho detto la metto io in macchina. sono stati bravi ragazzi, li avete visti andare in giro? Ho ponito tutte le ringhiere, ho visto che ho fatto un bel lavoro. Qui mi avete fatto proprio un grosso piacere, io mi stanco da matti a tenere. Ci mancherebbe. Ho anche qualche anno in più di voi altri, quello lo buttiamo. Ringrazio tutto lo staff del comune, i consiglieri, i miei assessori, soprattutto i cittadini di Castelmagno che hanno accolto veramente bene questa iniziativa e che ci hanno dato una mano e che hanno aiutato i ragazzi.